Io sono Liliana Petraghia, sono la mamma di Alessandro La Rosa, orgogliosa di essere la sua mamma, ve lo assicuro. Ale è socio, è un amministratore, è CEO. CEO significa amministratore delegato. Preparate dei pacchetti per dei clienti tramite dei, per esempio, chi ha la Ferragni? Che cosa fa esattamente chi ha la Ferragni? Il lavoro da amministratore è un po' amministratore, cercare di capire se ci sono appunto rumi complessi e malori soldi. E poi prende decisioni, quindi arriva con tante scelte da prendere, bisogna dire sì no più o meno, ma accertarsi comunque che le scienze che si sono deprede sono correnti.